I giorni della settimana. I giorni della settimana sono sette. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Etimologia dei giorni della settimana. Di, in italiano, significa giorno. Anticamente, i giorni della settimana erano associati ai corpi celesti. Lunedì, giorno della luna. Martedì, giorno di Marte. Mercoledì, giorno di Mercurio. Giovedì, giorno di Giove. Venerdì, giorno di Venere. Sabato, giorno di Saturno. Domenica, giorno del Sole. I giorni della settimana, la grammatica. I nomi dei giorni, da lunedì a sabato, sono di genere maschile. La domenica è di genere femminile. Le parole con l'accento sull'ultima sillaba si chiamano tronche e non cambiano al plurale. Esempi. Il lunedì, il lunedì. Il martedì, i martedì. Il mercoledì, i mercoledì. Il giovedì, i giovedì. Il venerdì, i venerdì. Sabato e domenica hanno il plurale regolare. Esempio. Il sabato, i sabati. La domenica, le domeniche. I giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Le parti del giorno. L'alba. La mattina. Mezzogiorno. Il pomeriggio. Il tramonto. La sera. La notte. La mezzanotte. Il fine settimana. Le quattro stagioni dell'anno. L'inverno. Lo. La primavera. L'estate. La. L'autunno. Lo. Le quattro stagioni. L'inverno. Primavera. Estate. Autunno. I mesi dell'anno. Gennaio. Gennaio. Febbraio. Marzo. Aprile. Maggio. Giugno. Luglio. Agosto. Settembre. Settembre. Ottobre. Novembre. Dicembre. Dicembre. I mesi dell'anno. Gennaio. Febbraio. Marzo. Aprile. Maggio. Giugno. Luglio. Agosto. Settembre. Ottobre. Novembre. Dicembre. Dicembre.